Fino a qualche anno fa il corto teatrale era un genere poco rappresentato in Italia, soprattutto al sud. In questo Napoli rappresenta una preziosa eccezione. Il teatro piccolo Bellini ospita quest'anno la settima edizione della Corte della Formica, un festival interamente dedicato ai corti teatrali che propone ben 18 lavori in rassegna con compagnie di diversa provenienza geografica e di variegato orientamento espressivo. A partire da martedì 15 e fino a domenica 20 ogni sera andranno in scena tre spettacoli della durata di circa 20 minuti ciascuno. Ma si tratta anche di un'occasione felice d'incontro fra giovani autori e professionisti affermati. Sulla scena saranno infatti Antonello Cossia, Marina Suma, Pippo Cangiano, Nico Mucci, solo per citare alcuni degli interpreti più esperti. Il tema ispiratore della rassegna, I buoni e i cattivi, percorre le 18 drammaturgie in concorso secondo un ampio ventaglio di sensibilità e stili che passano dalla commedia Lampo al soliloquio drammatico con incursioni nel Fescennino e nella Claunerie. E fino a domenica al Teatro San Carluccio, il piccolo spazio storico a ridosso di piazza Amedeo, la compagnia Macelleria Ettore presenta Stanza di Orlando, un lavoro onirico e oscuro sull'immaginario di Virginia Woolf, con una grande prova attoriale di Mauro Appettorruso.